Santa è simbolo, è totem, ma è anche rito. È una festa straordinaria, unica, carica di tantissimi valori. Ricorda una grazia, 1805-26 di luglio. Ricorda un popolo che ha voluto ringraziare, Anna, la Santa, che li ha difesi e protetti. Ricorda il mondo rurale, nella sua fatica, cantata dalle traglie. Ricorda il pane condiviso. Ricorda che il mondo ha bisogno di essere amato. Dicevano così, la molteplicità che diventa unicità e poi si esprime in un'opera. Io, in mio modo, non ho mai mai parlato di usare i grazi per fare qualcosa, fare qualcosa di un'altra grazia. Farsi conoscere attraverso i pregevoli lavori che si fanno col grado, ormai ci sono i maestri di questa arte che ha avuto richiame e riscontro nel mondo. Si tratta di carri bellissimi che uniscono la sapienza della manipolazione contadina presa agli Elsi, anche spesso con le tecniche artigianali affinate. Coraggio, Dio benedica queste immense tradizioni.